È ancora in corso e lo sarà fino a settembre la mostra di antiche macchine da cucire al Museo della Tela Umbra nel centro storico di Città di Castello. Un modo per valorizzare il pregiato artigianato tessile dell'Alto Tevere nella sede espositiva dell'antico Palazzo Tomassini, ex Bourbon del Monte. Durante la visita al Museo Immancabile ha anche quella a filati, telaidepo, catrine, merletti e strumenti di vario genere per la tessitura. Per valorizzare un'arte antica che può rivelarsi anche una possibilità di lavoro attuale, come nel caso di Roberta Cucciaioni, figlia del famoso sarto di San Secondo, del quale tramanda il lavoro grazie a macchine da cucire simili a quelle storiche esposte al Museo della Tela Umbra. Le macchine da cucire, intanto di per sé, andando dal 1820 fino all'inizio del secolo, sono di una spettacolarità manifatturiera straordinaria. Cioè, chi le ha viste o chi le vuole vedere, sono cesellate con motivi di perla, alcune dorate. Hanno un'evoluzione straordinaria che rappresenta bene l'evoluzione della ricerca e dell'ingegno umano. Non è un caso che il vero inventore della macchina da cucire è contestualmente anche l'inventore della nave rompighiaccio, dei fucile a ripetizione, addirittura della modalità di tessitura del lino. Quindi per noi una scoperta particolarmente interessata. Noi ancora usiamo, non dico quelle macchine lì, ma poco più. Non usiamo macchine industriali, c'è la macchinina pedale, una solamente elettrica. Per cui anche noi ci riteniamo una nicchia, una cosa un pochino, ce lo dicono in molti, una realtà veramente che purtroppo, come siamo messi adesso, è dura andare avanti. I capi che realizziamo sono realmente capi unici, sono veramente capi unici. Questa è una cosa che vorrei ribadire, perché parte dal disegno, parte dalla costruzione dell'idea del cliente, di noi, scelta del tessuto, realizzazione, modifiche in corso. E questo qua è proprio, uno dice è un vestito, vabbè, è un vestito, però alla fine è una piccola opera d'arte.